Ciao a tutti, benvenuti. Oggi voglio trattare un argomento molto importante nell'ambiente della spiritualità che è il tema dell'illuminazione. E ci sono tante false credenze su questo stato che si pensa che è uno stato che una volta raggiunto si mantiene nel tempo, è come arrivare uno stato di coscienza dove siamo amore, siamo collegati all'uno nel cosmo con tutti gli esseri. Questo stato viene chiamato anche samadhi, è uno anche degli obiettivi dello yoga, infatti è l'ottavo pilastro diciamo nello yoga, che è proprio il samadhi, che è la realizzazione dell'essere. Nella nostra cultura si crede che l'illuminazione quando arriva è permanente, quindi può arrivare da un momento all'altro seduti sul proprio tappetino yoga e ci si illumina. E così si sta in questo stato di fusione, unione e ci si trasforma completamente così. Diciamo che in India non pensano esattamente questo perché ci sono prima di tutto due tipi diciamo di samadhi. Un samadhi che si chiama sabija e un altro tipo di samadhi che si chiama nirbija. Bija significa seme, quindi sabija significa lo stato di samadhi, di illuminazione con semi e viene chiamato anche così piccolo samadhi e il nirbija è lo stato di samadhi senza semi. Cosa vuol dire questi semi? È il seme della coscienza, quindi il piccolo samadhi vuol dire che c'è ancora traccia della nostra coscienza o della nostra consapevolezza, quindi un'esperienza di picco, di vetta. E l'altro tipo di samadhi viene chiamato nirbija senza semi, vuol dire che lì è proprio la fusione, non c'è neanche più l'osservatore, la fusione totale con il cosmo. Diciamo quindi il concetto di illuminazione di samadhi non è tanto uno stato permanente ma quanto un'esperienza di picco e durante la nostra vita possiamo avere differenti esperienze di picco. Illuminarsi forse significa diventare sempre più amorosi, conoscersi sempre più in profondità, forse è più un viaggio infinito dove la meta non è arrivare da nessuna parte ma forse la meta è proprio il camminare. Una volta che abbiamo intrapreso il cammino siamo già sul cammino ed è questa la meta, è continuare a camminare. Quindi questa illuminazione forse è questo camminare, scoprire le nostre ombre, fare luce, diventare sempre più amorosi e più autentici. Quindi senza diventare qualcos'altro rispetto a quello che già siamo ma è proprio scoprire chi siamo e vedere che siamo già la manifestazione divina. E questa manifestazione divina forse per la nostra mente non è perfetta o non è così come dovrebbe andare o come dovrebbe essere. Ma è proprio questo il nostro grande compito come esseri umani, è imparare a essere umani perché solo essendo umani possiamo raggiungere davvero il divino.